Dopo partita di Cervinara-Ariano perde in casa il Cervinara con una squadra di eccellenza gioca una gara ottima nel primo tempo sufficiente nella ripresa anche se ad onore del vero nella ripresa il Cervinara è andato tante volte vicino a gol però alla fine il risultato ha premiato l'Ariano Mister, cosa di questa gara dimentica in fretta e cosa le resterà nella mente? Beh, sicuramente voglio dimenticare in fretta gli errori che sono stati commessi e invece dobbiamo ripartire subito da quanto di buono abbiamo fatto Mister, una partita dove lei è partito con un 4-4-2 gioca con i due esterni ragazzini e con l'under in porta in mezzo a campo la squadra, forse il reparto migliore del Cervinara ha sofferto un pochino in più anche se nel primo tempo ha costruito ben cinque palli di gol nitide Forse anche qualcuno in più Sì, infatti questa è una delle cose dove ci lavoriamo la difesa deve salire sicuramente di più i reparti debbano essere molto più stretti Si è visto un pochino il Cervinara nella seconda fazione di gioco molle sulle gambe frutto della preparazione sicuramente però Stellato a mio parere il migliore in campo si è mangiato qualche gol però alla fine è il centravanti boa che tutti aspettano infatti sicuramente uscirà fuori è iniziato un po' in ritardo poi noi come lavoro abbiamo caricato tanto quindi si sente ovviamente Mister, un ultimo giudizio sui fuori quota? Beh, positivo qualche piccolo errore cercheremo insomma di correggerlo Mister Montanile dell'Ariano analizziamo un pochino la gara una gara che ha visto una squadra giovane l'Ariano di eccellenza vince sul campo del Cervinara una squadra che ha giocato bene però alla fine ha dovuto soccumbere anche se dall'altra parte come ho detto prima un'Ariano che si è ben comportato con un'anediata di giovanissimi Sì, questo è il nostro programma della società noi abbiamo iniziato da poco da dieci giorni abbiamo altri nove elementi che si sono allenati che non ho fatto venire perché non erano ancora tesserati della società ho valorizzato i 14 giocatori di Ariano è la prima volta che a distanza di tanti anni in eccellenza è la prima volta che ci sono 14 arianesi pertanto io lavoro con i giovani da 23 anni mi è fatto piacere affrontare una grande squadra come il Cervinara una grande società e grandi calciatori visto che tanti hanno militato con me pertanto li conosco troppo bene è stata una bella soddisfazione perché i ragazzi hanno combattuto si sono addirittura fino a ieri non avevamo neppure la squadra per venire qua però ripeto è una grande soddisfazione con una grande squadra che reputo il Cervinara una società che può tranquillamente puntare al campionato insomma il campionato di promozione spostando l'obiettivo sulla promozione il campionato di promozione che quest'anno sembra essere un'eccellenza 2 secondo me sì perché tutte le squadre che ci sono iniziando dal Cervinara Montesarchio tante squadre che ho visto ho visto tanti acquisti fatti da categorie superiori secondo me è un'eccellenza 2 tranquillamente perché la qualità dei giocatori che ci stanno in promozione si può dire che forse è il 50% di quelli che stanno in eccellenza perché tutti puntano ai giovani però mai nessuno si prende la briga di mettere i giovani il problema è uno solo per prendere i giocatori di qualità ci vuole solo una cosa ci vogliono i soldi per prendere i giocatori da categorie inferiori e farli giocare in eccellenza ci vuole un po' di abilità un po' di fortuna nel farli giocare è normale però bisogna farli giocare i giovani devono giocare sono 23 anni che gioco con i giovani gioco anche a Mirabella avevo giocato con 6 furicute dal primo giorno del campionato pertanto se sono validi